Amareggiati, scoraggiati, delusi. Usiamo degli eufemismi per descrivere lo stato d'animo degli imprenditori delle aziende che hanno lavorato in contrata Zai a Gela in merito alla costruzione del polo agro-fotovoltaico Ciliegino. Dopo la protesta di alcune settimane addietro sono ritornate la carica e ieri hanno occupato pacificamente l'aula consigliare del Comune. Aspettano ancora i soldi dei lavori eseguiti. Dell'argomento, proprio venerdì scorso, se ne era occupata la trasmissione agora di Franco Gallo. In quell'occasione si era detto che entro questa settimana la vicenda si sarebbe conclusa o dentro o fuori. Nulla al momento attuale di tutto questo. Non solo stiamo perdendo quello che ci aspetta di diritto, ma che il prefetto e le istituzioni sappiano che in alcune ditte già da stamattina stanno arrivando i decreti ingiuntivi per mancati pagamenti. Quindi credo che oggi si debba mettere fine una volta per tutte sul progetto Ciliegino. Loro già hanno fatto un danno da 20 milioni di euro, ancora trattano con le banche. Oggi dovrebbe essere risolto questo problema. Per noi sarà un Natale che probabilmente passeremo qua al Comune, perché se non arrivano queste risposte entro martedì, aspettiamo la risposta e aspettiamo qua al Comune entro martedì, noi non ci muoviamo da qua. I imprenditori aspettano ma la pazienza hanno riferito a un limite. Questa è stata la più vergognosa cosa che avrebbero potuto fare, perché hanno rovinato 200 famiglie e 200 imprenditori. Li hanno portati all'Astrico, proprio a Gnaro non rovinano. Proprio siamo persi. Quanti soldi dovreste incassare? All'incirca 5 milioni di euro. Che non sono bruscolini. Cioè vorrei capire se qualcuno si prende qualche briga e dire ma questi come fanno? Cioè l'Inaio l'hanno a pagare, chi non l'hanno a pagare, dobbiamo pagare tutto ma noi nessuno ci dice niente.